Buongiorno a tutti, eccoci qui, bentrovati e forse è il giorno tanto atteso, chi lo sa lo vedremo più tardi. Certo è che ci siamo, ci siamo quasi, basta vedere le feste incredibili alla fine della partita, nello spogliatoio, poi in pullman, al grido, al coro, la capolista se ne va e anche un conte scatenato a cantare insieme ai giocatori, insieme alla squadra dopo la decisiva e importantissima vittoria di Crotone, non senza difficoltà, con quei palloni che pesano, hanno iniziato a pesare molto in questo finale di stagione, però alla fine il risultato è arrivato, importante, griffato ancora Eriksen a dimostrazione di tutto quello che è successo in questa stagione, comunque della bravura di Conte, e qui lo sottolineiamo, di ritornare sui suoi passi, di dare, quando ha visto la scintilla che tanto aveva cercato nel derby di Coppa Italia, finalmente quella punizione che ha cambiato il corso del destino, la storia di Eriksen all'Inter, e anche la stessa storia dell'Inter con un giocatore che si è rivelato fondamentale in questa corsa, gol al Napoli e il gol di ieri appena entrato, una piccola perla seppur deviata, due gol determinanti in questa stagione, così come sono stati i due di Darmian, così come il tè caldo, così come il nostro canale, il vostro canale, che continua a crescere, e spero anche che i problemi audio siano stati piano piano risolti per essere sempre di più, diciamo, nel corso dei tempi, non soffrire anche dal punto di vista tecnologico, qualcuno è un vecchio conservatore, qualcuno pensa sempre solo a criticare, noi proviamo a fare sempre qualcosa in più per darvi un prodotto migliore, anche se non sempre viene ripagato, così come le pagelle di ieri, andate a ricliccarle, a ricondividerle, se non lo fate adesso, dopo una partita così importante, quando lo fate, ricordo anche il gruppo Telegram, scaricate l'app nello store, e poi cercate Marco Barzaghi Inter, in basso a destra cliccate Unisciti, così vi arriveranno tutte le notifiche di quando siamo live, di quando sono online i nuovi video, se ci sono notizie, se alla fine è successo qualcosa di importante, e dunque a questa nostra community, presso anche nuove, nuove, importanti novità, soprattutto per chi è abbonato, e poi vediamo se faremo il live, la partita tra Sassuolo e Atalanta, basta solo un punto, ma potrebbe arrivare già la festa, se l'Atalanta non riuscisse a battere il Sassuolo oggi al Mapei Stadium, all'andata non c'è stata storia, fu 5-1 per la squadra di Gasperini, però il Sassuolo ha visto nelle ultime partite, quello che ha sbancato San Siro, che ha battuto il Milan, non è certo squadra da sottovalutare, e chissà che non riesca a fare questo grande regalo, per far cominciare, anzi continuare le feste che ci sono state negli spogliettori ieri, stiamo a vedere quello che succede poi, e se no aspettiamo, aspettiamo settimana prossima, sabato prossimo, Inter Sampdoria a San Siro, ore 18, era stato richiesto uno spostamento di orario, per evitare che i festeggiamenti proseguissero, violassero il coprifuoco, richiesta diciamo rimbalzata, rifiutata, perché non ci sono i motivi di ordine pubblico, per una situazione del genere, con lo stadio chiuso, e anche per il calendario già stabilito, di anticipi e posticipi, da parte della Lega Calcio, quindi si giocherà sempre alle 18, aspettando, aspettando il grande momento, tanto atteso, 11 lunghi anni, per tornare a festeggiare, a sventolare bandiere, sempre con la testa sulle spalle, mi raccomando, e sempre con la mascherina indossata, anche se c'è tanta voglia di abbracciarsi, di festeggiare, di urlare, di cantare, mi raccomando, non dimenticate mai, tutte le precauzioni del caso, in questa situazione, video un po' particolare, perché non ci sono i giornali, ne dico, la faremo un po' di rassegna web, per leggere qualcosa di Inter, anche in questa domenica, di festa, di grande attesa, per capire quello che può succedere, e ci sarà, in questa giornata, o se dovremmo aspettare, vivere una settimana di attesa, ma alla fine, cos'è una settimana in più, dopo 11 lunghi anni, un paio di considerazioni ancora, sulla partita, di ieri, vorrei farle, intanto ricordiamo le pagelle, con sufficienza per tutti, poi, Hakimi, sempre devastante, e leggero, nel momento di, stanchezza, la sua velocità, si vede, come, possa fare la differenza, sempre in queste partite, ha segnato un altro gol, palla sotto le gambe di Kordaz, sempre un pericolo, quando aziona la sua velocità, Barella, anche lui, sugli scudi, migliori in campo, direi, Hakimi Barella, e poi un Eriksen, che è entrato, e ha risolto la partita, uno stop delizioso, oltre al gol, e tutta la sua qualità, ma anche intelligenza, così come quando ha, sprecato, diciamo, si è sacrificato, con quel placcaggio, per bloccare, il contropiede, del Crotone, che io continuo, a chiamare Sassuolo, anzi, continuavo, anche ieri, a chiamarlo Sassuolo, perché in testa, accessore, soltanto la sfida di oggi, della squadra di De Zerbi, contro, l'Atalanta, per vedere come finirà, il Milan, intanto, ieri sera, è tornato a vincere, importanti punti Champions, col Benevento, in una lotta, che sarà serratissima, con le partite di oggi, di Napoli, Juve e Lazio, a battagliare, per vedere, chi arriverà, alle spalle dell'Inter, chi riuscirà a conquistare, la Champions, e gli importanti, soldi, della, coppa più importante, stiamo a vedere, insomma, aspettiamo, ancora, difficoltà, un po' di sfortuna, solita, per Lukaku e Lautaro, a secco, da cinque partite, però, anche qui, chi se ne frega, ma, la dimostrazione, insomma, di quanto siano diventate, pesanti, le gambe, i palloni, e si faccia fatica, ieri, comunque sufficienti, sfortunati, nel primo tempo, con un legno colpito, a testa, sempre prezioso, Lukaku, con l'assist, per, Eriksen, spalla alla porta, da pivot, da centro boa, da attaccante di calcetto, che ha difeso la palla, e ha permesso poi, la conclusione, di Eriksen, che ha sbloccato, una partita, che si era complicata, parecchio, soprattutto nel secondo tempo, nonostante, le parole di Conte, nell'intervallo, l'Inter, sembrava quasi bloccata, è servito, però, il triplo cambio, del comandante, con dentro Sanchez, anche lui molto positivo, Perisic, ed Eriksen, a cambiare la partita, entrati bene, tutti e tre, nell'incontro, e un Conte, che è riuscito, a fare, i cambi giusti, rispolverando, un senso, che piano piano, continua a crescere, ha sfiorato il gol, in due occasioni, potrà rivelarsi, molto importante, in questa stagione, e poi, insomma, vediamo, che cosa accadrà, importante, il ritorno, in Italia, di Steven Zhang, deve definire, il prestito, con, il fondo americano, Ben Capital, e poi, inizieranno, inizieranno, molto presto, le riunioni, i tavoli, programmatici, la nuova Villa Bellini, per, programmare il futuro, il rinnovo dei contratti, scadenza di Conte, di tutti i dirigenti, di Marotta, Tavusilio, Bacin, Antonello, con tutti, hanno scadenza 2022, i giocatori, Lautaro, Bastoni, prima di tutti, Andano, ha già, innovato, mesi fa, quindi, non c'è, nelle priorità, dell'agenda, Brozovic, punto di domanda, non se ne parla, potrebbe essere, tra i sacrificati, magari, dopo l'Europeo, se farà un altro, grande, europeo, con, la Croazia, e poi stiamo a vedere, sicuramente ci sarà un assalto, da tutta Europa, sui gioielli dell'Inter, come già è cominciato, con le offerte dei City, per Bastoni e Lukaku, il Chelsea, che vorrebbe Big Rom, dalla Spagna, c'è sempre un certo interesse, per Lautaro, che ha cambiato procuratore, ha preso, lo stesso di Achimi e Camagno, che ha, entrature importanti, soprattutto con Real Madrid, che però sogna Holland, o Mbappé, con una possibile, anche grande rivoluzione, del calcio, bisogna vedere, se Messi, lascerà Barcellona, andrà a Parigi, dove, vogliono anche, Cristiano Ronaldo, magari, uno scambio con Icardi, con la Juventus, potrebbero cambiare, tante cose, e l'Inter, però, dovrà cercare, di autofinanziarsi, ancora, anche, per il prossimo mercato, se non ci saranno, ingressi, importanti, più di una quota, di minoranza, che, comunque, non possiamo, escludere, anche se, dalla Cina, ci dicono, che il governo, abbia allentato, e, diciamo, la presa, su Suning, che può, tornare, a investire, con questo fiore, all'occhiello, dell'Inter, e, il fatto, di essere, la prima proprietà, straniera, a vincere, nel calcio italiano, è sicuramente, un motivo di vanto, per la Cina, per il presidente Xi Jinping, e, soprattutto, per la famiglia Zhang, che, come ha ribadito, già, negli incontri, che ha avuto, Steven, in questo, diciamo, in questi giorni milanesi, vuole, rimanere al comando, definirà adesso, questo prestito ponte, poi, vedremo, se porterà, un ingresso, con un quote di minoranza, o, a qualcosa di più, nel tempo, tutto da vedere, ma, aspettiamo, quello che accadrà, adesso, i vostri commenti, come sempre, più popolari, al video, delle pagelle di ieri, andiamo, a leggerli, e, a fare un po' di considerazioni, poi, una leggera, light, rassegna stampa web, con, un po' di pagelle, e, qualche, anche, considerazione, sulle parole importanti, di Marotta, che, nonostante qualche fake news, che gira, ha escluso, qualsiasi, possibilità, di un suo ritorno, a Torino, alla Juve, anzi, ha detto, che la sua volontà, è assolutamente quella, di, aprire, un ciclo, e continuare, dopo questa grande, vittoria, così, nel modo, più importante, migliore, diamo merito a Conte, ce lo meritiamo, tutto questo scudetto, Matteo, bizzarro, grazie ragazzi, vi amo, 2002 roller, inutile girarci intorno, Conte, ha realizzato, una corazzata, meritiamo lo scudo, al cento per cento, Claudio De Murta, su un punto al traguardo, Gian Battista, e ci ricorda, ci fa, un pensiero, molto importante, non dimentichiamoci mai, degli eroi nerazzurri, che ci guidano, dall'assù, di dedicarlo a loro, Peppino Frisco, Armando Picchi, Facchetti, Giacinto, Mario, Mario, scusate, Mario Corso, Mauro Bellugi, e, tutti quelli, altri, che, anche, sono mancati, in, questo duro, duro periodo, che abbiamo vissuto, e questo scudetto, sarebbe il premio, per tutti quelli, che hanno sofferto, in questi, in questo, più di un anno, ormai, che abbiamo passato, chiusi in casa, a soffrire, sia dal punto di vista, sanitario, che economico, come mi scrivete, in tanti, dai, che dopo il dominio, bianco-nero, finalmente, tutto si colora, di nero-azzurro, Franco Iseppi, Antonio Pisanelli, che torna, si può dire, ora, è veri gufi, che quest'Inter ha dimostrato, oggi, voler vincere, gridare, che siamo forti, e vincenti, siamo i più forti, grazie Inter, Marco Serrao, Biagiotondo, bene il gol, la vera magia di Eriksen, è stata quello stop perfetto, a seguire la scuola del calcio, che giocata, Turbo Achimi, ha sigillato questa meritata vittoria, ora ci tocca tifare, la nostra bestia, vero, nero-verde, Achimi, un grande, scrive Marco, Max Power, Barella Andanovic, in ripresa, specialmente il capitano, ha fatto delle uscite, volanti di grande personalità, con la Samption, conto di sospeso, ultima sconfitta dell'Inter, del 6 gennaio, poi, un girone di ritorno pazzesco, manca solo un centimetro al traguardo, Franco Saggioro, Marco Cazzaniga, la messa il danese, ora aspettiamo solo domenica, per festeggiare, Antonio 1986, Marco comunque, tenere Eriksen in panchina, è la morte del calcio, però, può essere anche una scelta strategica, è entrato fresco, e ha risolto la partita, ancora pochissimo, e si deve festeggiare, come se non ci fosse un domani, grandi, ci siamo davvero, ho visto l'ultimo trofeo a Roma, in Coppa Italia, ora dopo 10 anni, scrive Giuseppe Gentile, vai lo scudetto, sono felice per tutti noi, da che ci siamo quasi, Lector, la capolista se ne va, adesso il gatto è nel sacco, Damiano, manca, manca un pezzettino, un pochino d'ansia l'ho avuta, Rosella, Matteo Bizzarro, che belle pagelle, impensabile a gennaio, un bel voto 8, a Conte Eriksen, grande Marco, mister Conte fantastic, un grande, mi è piaciuto il ritorno di Sensi, Nicolò, la candia, il messaggio di prima era di Valeriano, Cipolletta, download, quasi completo, 99% S19, Massimo Ducchi, vedo che ci segui, questa è la vittoria, delle vittorie, 99.9%, sono felicissimo, piano meglio di noi, Gabri, grande Marco, grande squadra, cambi di qualità, tutti sul pezzo, risultato è meno uno dallo scudo, dai Marco, domenica la prossima, festeggiamo, ce lo meritiamo, Marco, un traguardo, che meritiamo tutti, ma proprio tutti, grande Antonio, grazie, a questa bellissima squadra, mancano le seconde linee a centrocampo, un vice Lukaku, un buon tutto campista a sinistra, per essere davvero fortissima, manca pochissimo, ancora complimenti ai ragazzi, Germano, Enzo Zan, la squadra di Milano, siamo noi, cerchiamo di leggerli tutti, stamattina che non abbiamo, la rassegna stampa, con i giornali, che non sono usciti, mi ero dimenticato, di sottolineare questa festa, dei lavoratori, anche se è stata molto, molto complicata, e tanti hanno lavorato, visto che sono stati chiusi, per tanto tempo, e devono cercare tutti, di ripartire, dopo questa crisi, grande Marco, che già è immensa, spero, di chiuderla domani, Massimo Vignali, Giacomo Lauria, finalmente possiamo sentirci, campioni, è stata una faticaccia, però adesso è fatta, Marco Seroldi, lo salutiamo, come tutti, Luis Parales, ci siamo Marco, il gatto Graffia, l'abbiamo adesso, messo nel sacco, Ericsson, è proprio l'acquisto di gennaio, vorrei vedere, cantare a tutti, Inter come anni fa, e come vi avevo sempre detto, anch'io, non c'entra niente, Antonio Puonte, con la soppressione di Pazza Inter, ma è solo un motivo dei diritti, che non si può più far sentire, per dei problemi, con chi ha scritto, col clan Celentano, e quant'altro, e per questo l'Inter non può più far sentire lo stadio Pazza Inter, sta cercando un nuovo inno, l'ha sottolineato Conte, che continuava a sentirsi dire, che aveva cancellato lui il Pazza Inter, l'inno, perché non voleva più gli errori del passato, tutte grandi fake, ma chi segue, sa benissimo le cose, come succedono, e come le raccontiamo noi, Marco, devo fare complimenti, soprattutto per le domande mirate in conferenza al mister, anche lei ha aiutato, per via traversa, raggiungere l'obiettivo con tanta tranquillità, grazie Antonio Ladu, anche se qualcuno, forse gli invidiosi, dalle loro camerette, cercano sempre di provare a provocare, danno a noi del provocatore, quando i primi sono loro, siamo sempre qua aspettando te, Ale Barzaghi, tu alla guida, noi comodi e seduti, fantastico narratore, sei tu, sei nero blu, ciao, mitico Barza, questo è il coro di Fabrizio Maffi, che salutiamo di cuore, dai Marco ormai è fatta, Fabio, Massimo Lelli, ho sempre creduto nel nostro mister, grande Conte, grande Inter, manca davvero pochissimo, Luigi Zelli, ritrovato un grande sensi, amici Sermidiana, domenica vogliamo vedere in Duomo Marco Barzaghi, e mi sa, vediamo se oggi o sabato prossimo, Marco ormai è quasi fatta, l'azione del gol di Eriksen, una meraviglia, gatto nel sacco ormai, good evening Marco, forse inter sempre, Marco ti seguo, da quando mancavano 30 punti da assegnare, quindi non da tanto, scherzo, da molto prima, meno male, Stefano Olivieri, Franco Marrocco, vittoria importante, Mirko Daudine, in fibrillazione, aspettando il video del mattino, col tè caldo, che tra poco ci gustiamo, giornata ancora importante, Sassade Barra, dopo 11 anni, finalmente riprovo dei brividi, brividi della vittoria, Gianmarco Milanato, come dico da sempre, uno come Giovannino, non lo scambio con nessuno, nemmeno con Milinkovic, Sabic, e nemmeno a chi mi lo mollo, grande Antonio Conte, Antonio Pancuono, Salvatore Grauso, quanto è bello vincere, ce lo meritiamo tutti, Matteo Peirone, ora stiamo a vedere domani, cosa fa l'Atalanta, la capolista se ne va, Eros Lego, salutiamo lui, come Raffaele Natali, siamo arrivati a destinazione, ancora un punto, come una finale di Champions, sull'ultimo rigore, Mario Brambilla, Camilla Nerazzurra, ciao Marco, a tutti i ragazzi, ormai vicini sabato, campioni Italia, che bello Marco, grazie sempre per il tuo commento, bravo, grazie, sono aumentate anche le nostre tifose, meno male, meno male, la prossima, si fa morire Luca, così a quelli, gli facciamo segnare Pinamonti, grazie Marco ai tuoi servizi che ci dai, Pasquale Bolognini, Nicola, salutiamo Mario Bellizzi, lo sconosciuto, dai che ci siamo, Viscardo Montiroli, Angelo Frigere, anche se l'Atalanta vincesse domani, non ne sarai dispiaciuto, perché metterebbe in difficoltà i rivali, poi Alessandro Bergamini, Palmatucci, dai che ci siamo dai, Forza Inter, Denis De Bevilacqua, Remo Caraffa, ci stiamo avvicinando, dobbiamo tenere duro, resta un pareggio, Gianmarco Milanato, pagelle perfette, meno male, qualcuno che apprezza, dai che manca poco, ne resterà solo uno, buonasera Marco, ho sempre detto che Darmian deve entrare a gara in corso, cambi decisivi, Sensi ha giocato un'ottima partita, Eriksen e Sanchez hanno svoltato, ciao Marco, Forza Inter, Forza Conte, Claudio Bizzarri, Luca Cicalone, un minuto di raccoglimento per i cari gufi, e vai dai che ci siamo, grande Marco, Valentino Rizzini, preferirei vincerlo sabato prossimo, buonasera Marco, dai che ci siamo, non ti ferò per il Sassuolo, Sarino, e vai, siamo quasi alla fine del percorso, come dice il nostro grande comandante, anche se ci ha dato dentro anche lui nei festeggiamenti, dai che ci manca poco, confesso che con certi opinionisti che hanno continuato a denigrare, Ericsson, giocatore nettamente migliore come Piedi, ma si può essere così prevenuti, vabbè, all'inizio l'abbiamo criticato anche noi, perché proprio non ci metteva del suo, e proprio non si impegnava, poi ha fatto veramente un gran lavoro fisico, di testa, di allenamento, di anche studio della lingua italiana, ed è riuscito a svoltare e a cambiare la sua storia in nero azzurro. Ciao Marco, guarda il destino, Conte ha pruncico con la Juve, Conte lo chiude, amo il calcio, ma specialmente la nostra Inter, ancora un punto, e poi sarebbe il dodicesimo scudetto che vivo da tifoso, Gianni Bucco, Lautaro 6, non so se è il più pericoloso combatte, viene sempre sostituito insieme a Ericsson, per loro il bene, è meglio che vadano via, ma Miro Mirotti, non siamo d'accordo con te, campionato vinto onestamente, senza scandali, episodi a favore, Davide Zilernia, Amala, 80 Giale, Gianluigi Zannini, Conte ci restituisce lo scudetto, che ci ha tolto il 5 maggio, c'è poco da dire, stiamo godendo, Fede, Santoshana, ma dove sono i Conte out e i gufi, Beatrice, sono contentissima, siamo molto vicini al traguardo, dai Marco, ci siamo quasi, Daniele Nerazzurro, Mogrin, dai, ormai è fatta, Francesco Giaconelli, Luca Marcia, Eriksen con il 19, a Juve, non può più vincere quest'anno, il ciclo è finito, scusami carissimo Barzaghi, quel posto è mio, grazie, non so che cosa si riferisce, a Goi Filo, e si comincia a cucire, la capolista se ne va, Mario Riso, gatto, 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 Paolo, poi grazie ragazzi, forza Inter sempre, e non lo ripetiamo, ora prossimo obiettivo, Juve quinta è fuori dalla Champions, intercampione d'Italia, veramente tantissimi, messaggi, Mario Gessaroli, vittoria Scudetto, le parole di Marotta, una serata meravigliosa, il gatto è quasi nel sacco, Irene se ne va alla capolista, Lorenzo Rispoli, la pancia fa male per la tensione, la gola brucia per le urla, Conte prende i tre punti di spalla, li porta a Milano, poi, meno uno all'apoteosi, Eros, Lego, Enzo Zan, caro Conte, ti devi conto che l'Inter con, Brozovic ed Eriksen, funziona meglio, ma non possono sempre giocare, gli stessi, un po' di rassegna web, prima dei saluti, e, di, aspettare, magari, un altro video, ben più importante, la giornata di oggi, aspettiamo, dita incrociate, col vecchio trap, la maglia di quel signore lì, di tutte le nostre, solite, consuetudini, parla Murigno, su Sport Mediaset, affetto speciale per l'Inter, ma se chiamasse una rivale, non ci penserai due volte, vabbè, oggi proprio se lo poteva risparmiare, anche se deve cercare squadra, il Milan si ritrova, grazie a Ibre e Ciala, la corsa Champions continua, su Sport Mediaset, leggiamo poi il duro confronto Ultras, con Donna Roma, senza rinnovo, non devi giocare con la Juve, un problema che, sembra sempre più grande, in casa Milan, con Donna Roma, sempre più vicino, alla Juventus, secondo, il portale, Mozart Sport, Colaro, che piace a Bologna, e Verona, per l'anno prossimo, parole di Marotta, non torno a Torino, e poi Ericsson, a Kimi, l'Inter vuola, lo Scudetto, ora è un passo, Crotone in Serie B, Scudetto, se l'Atalanta non vince, oppure basterà un pari, contro la Samp, andiamo a vedere, anche, le parole di Conte, crescita totale, squadra pronta, entrare nella storia, sul lino, ha chiarito, Marotta, voglio aprire un ciclo qui, vicino alla vittoria, per grazie a Conte, e questo, poi video delle feste, nello spogliatoio, e ancora, tutte le novità, andiamo però, a vedere qualcos'altro, su, sul web, le pagelle della gazzetta, online, Andanovic 6, finalmente una giornata serena, Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6, Akhimi 6,5, poteva mancare la sua firma, mi sembra un po' poco, visto il gol e la partita che ha fatto, Barella 7,5, anche forse un po' troppo, Nervi da Scudetto, direttore d'orchestra, poi un primo tempo in cui il pallone sembrava, pesare un po' troppo, l'assist per Lautaro viene sprecato dal toro, quello per Akhimi finirà nelle statistiche, in mezzo il solito super cross per Bastoni, anima tricolore, Brozovic 6,5, lucido anche a giri bassi, eppure la palla a Sensi in avvia da circoletto rosso, Sensi 6,5, Darmian 5,5, mi sembra un po' ingeneroso, una insufficienza, una partita del genere, Lautaro 6, parte che pare sott'acqua, sotto ritmo, sotto tutto, sbaglia un controllo semplice sul lancio di Barella, poi sfortunato sul palo, va increscendo, ma viene sostituito, Lukaku 6,5, 5 partite senza gol, un evento, litiga con i palli da qualche tempo, eppure la sua utilità è indiscutibile, anche in gare simili, provare per credere, con quella sponda, calcio 5 per Eriksen, Ferisic 6,5, poi Eriksen 7, entra e la decide, tocco di prima, e subito si propone per il tiro, secondo gol in campionato, è quasi simbolico, col gol che più avvicina allo Scudetto sia suo, l'uomo del girone di ritorno, direi l'uomo del sorpasso, l'uomo della vittoria, che ieri si è proprio vestito, da mister Scudetto, Sanchez 6,5, al solito entra e mette il piede nell'azione del gol, Conte, partita che spiega cos'è l'Inter, l'umiltà di abbassarsi anche di fronte al Crotone, che era partito forte, poi la forza di prendersi la vittoria con i cambi, l'opera d'arte, tutta sua, e un bel set in pagella anche per Conte, poi vediamo cosa ci siamo preparati, le parole di Conte su calciomercato.com, all'Inter mi sono messo in discussione, altri si sarebbero nascosti, ma adesso che soddisfazione con i microfoni di Sky, il campionato che stiamo facendo è figlio della crescita costante, che questa squadra ha avuto sotto tutti i punti di vista, anche di mentalità e condivisione, Marotta allontana la Juve, vorrei aprire un ciclo qui, puntiamo su Sensi, e poi Conte ha cambiato l'Inter, e ora tifo a Sassuolo e Conte ha la rovescia per lo scudetto, e adesso forza Sassuolo, Alberto Cerruti, lo dicono tutti, l'Inter sta a cominciare da Conte, perché se la squadra di De Zerbi fermerà l'Atalanta, andanoci e i compagni, potranno festeggiare il diciannovesimo per il club nerazzurro, non in più del Milan, come previsto, l'Inter vince a Crotone con il gol nella ripresa di Eriksen e Achim, in un crudele testa a testa, testa a coda, che toglie le ultime speranze di salvezza alla squadra di Cosmi, e a poco serve ricordare le difficoltà del primo tempo di Nerazzurri, che però, pur giocando a ritmo basso, colpiscono due pali con Lukaku e Lautaro, troppo netta la differenza di valori, di motivazioni, per pensare a un finale diverso, anche se il secondo gol di Nerazzurri arriva soltanto in pieno recupero, adesso aspettiamo solo, aspettiamo quello che ci manca, quel punticino, aspettiamo Atalanta-Sassuolo, anzi Sassuolo-Atalanta, e poi vediamo cosa succede, ma alla fine iniziate a prepararvi, iniziate, è anche la giusta soddisfazione, il giusto premio a tutto questo lavoro, che abbiamo cercato di fare in questo anno, e qualcosa in più da quando abbiamo aperto il canale, ogni giorno, sempre al vostro fianco, con le giuste informazioni, con il servizio che abbiamo cercato sempre, di non farvi mai mancare, a differenza di altri che sono spariti, senza neanche salutare, un saluto, un abbraccio a tutti, un ringraziamento a tutti quelli che, ci hanno aiutato, a tutti voi che siete sempre lì, a scrivere, a commentare, a seguirci, a fare colazione con noi, adesso il bel tè caldo, me lo godo, l'appuntamento è domani, ma forse potrebbero succedere cose nel pomeriggio, quindi gruppo Telegram, sempre sintonizzati, chissà che non si parte, non si vada in live, a raccontare quello che aspettiamo, da tanto tempo, sempre però mi raccomando, mascherine, precauzioni, testa sulle spalle, buona domenica ancora a tutti, manca solo un piccolissimo punto, ma magari anche no.